è il santo che pose tutta la sua vasta erudizione a servizio della sacra scrittura nacque nel 347 a stridone in dalmazia da famiglia patrizia e cristiana giovane di natura irrequieta venne a roma per approfondirsi negli studi per i quali sentiva innata attrattiva quantunque cattolico praticante si lasciò sedurre dallo studio dei classici pagani e i quali nutriva grande venerazione amante della cultura fu nelle gallie a costantinopoli eccetera apprendendo il greco il latino l'ebraico il siriaco e il caldaico papa damaso gli chiese di tradurre in latino il vecchio testamento e rivedere il nuovo girolamo accettò l'arduo compito e per soddisfarvi meglio stimò opportuno fissare la dimora nella giudea si stabili a betlemme in una grotta presso quella dove nacque il salvatore e qui vi consacrò tutta la vita e la sua vasta erudizione alla traduzione e commento delle sacre scritture tentato ad esistere dall'impresa e ad abbandonare la solitudine riuscì a vincersi mediante prolungati digiuni assidua preghiera e pene corporali tanto che poteva scrivere più tardi serbi per sé roma i suoi tumulti scorra il sangue nelle sue arene risuoni il circo delle grida insensate siano riboccati di lussuri ai suoi teatri qui noi pensiamo solamente quanto sia salutare rimanere uniti con dio e mettere in lui tutta la nostra speranza affinché un giorno possiamo scambiare la nostra povertà col regno dei cieli il rigore morale di girolamo lo rendeva decisamente favorevole all'introduzione del celibato ecclesiastico dopo un lungo ed estenuante lavoro terminava finalmente l'opera monumentale della traduzione della sacra scrittura i dotti del tempo lastimarono un prodigio ed ancora oggi la traduzione di san girolamo è ufficiale nella chiesa combatte vigorosamente tutti quelli che snaturavano il dogma o spargevano scissioni nel greggio di cristo le sue lettere immortali ne sono prova benché infermo e ridotto a pelle e ossa non risparmiò mortificazione alcuna al suo corpo ripetendo che intendeva consumare il sacrificio della sua vita sulla vetta del golgota si spegneva nel signore il 30 settembre 420 dopo una lunga vita di lotta di lavoro e di preghiere la chiesa riconobbe in lui uno dei più fermi e sicuri testimoni della verità e ornò la sua fronte con laureola dei dottori preghiera o dio che ti sei degnato provvedere la tua chiesa del beato girolamo confessore dottore sommo nell'esporre le sacre scritture fa ti preghiamo che per sua intercessione e col tuo aiuto possiamo praticare quello che egli insegnò con la parola e con l'esempio chiesa riconobbe in lui uno dei miei grazie grazie grazie